Vi immaginate se tipo questo fosse stato un cavo elettrico? No eh? Ok! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video che non è né una tortura, né un metro quadrato, né una challenge, né un answer time, né un gatto pelato. Bensì è l'insieme, proprio l'insieme, di tutte quante le penitenze che avrei dovuto fare a ogni inizio tortura e a ogni inizio del... del non so parlare. Vi ho chiesto di commentare con l'opzione migliore, ovvero tante penitenze tutte insieme oppure una penitenza bella tosta. Questo sostanzialmente è il video che stavate aspettando in tantissimi. La penitenza più greve per compensare tutte quelle che non ho fatto fino adesso. E alla fine è uscito fuori cerietta. Però la cerietta era diciamo troppo banale, nel senso l'hanno fatta già altre persone, poi non è che faccia poi così tanto male dai. Quindi ho deciso un posto dove fa un male, ma un male cane, regà, che proprio è da strapparsi la pelle a mozzichi. Quel posto è il culo. Mi ha paura! No, no, non so se farlo o meno. Guarda, guarda come strofina! Cioè... No... Oddio, no! C'ho caldo! Allora... No, aspetta. Ragioniamo. Prima ragioniamo. No, no, prima ragioniamo. No, 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 così, no, così, no, così, no. No, 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 no. Oddio, sembra che mi devo mettere una supposta. Vi rendete conto che adesso i miei peli del culo si strapperanno tutti? Voglio almeno 25.000 mi piace per questa cosa, ok? Almeno 25.000. Oh, cazzo. Non lo voglio fare! Non lo voglio fare! No, ragazzi. Ma fa malissimo, ho fatto di strappate i peli dal culo, no? Devo respirare un attimo. Sì, tu. Calmo, calmo, calmo. Calmo. No, ma... Marco, Marco. Marco! No, 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 no. No, aspetta, 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 no, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Fino a poi i miei dei giri? Fino a poi i miei dei giri? Atta! Mi ha quasi! Vieni qui! No! Basta! Basta ti prego! Basta! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Alza... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Che schifo! No! Che schifo! Che bastardo! Ah, io non cammino più Io non cammino più Oddio È la cosa più brutta che abbia mai fatto Ah, no, regate No, aspetta No, veramente Almeno 25.000 mi piace Ho sofferto come un cane, porca troia Eva Niente, questo è quanto Iscrivetevi al canale Commentate con altre penitenze Altre torture, quello che cazzo vi pare Seguitemi su tutti i social network, vi lascio i link in descrizione E... Porca merda